Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono qui in compagnia di Jokey, Dade, Eme, Dez, Tearless, Kenoya, Hitfox, Tech, Malamarci, Matt e spero di averle detto tu Erem, 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 si ricorda Si c'è anche un pezzo sotterraneo e siamo qui per giocare una partita di ultra hardcore Che sarebbe un, diciamo, mega ppp della Madoa con delle regole esagerate Quindi adesso abbiamo già quattro team fatti, ci divideremo in un punto a random nella mappa Prenderemo dei minerali, delle risorse per farci armature e armi e dopo ci scontreremo per vedere chi sarà il più forte A dopo Ok ragazzi, siamo partiti, cominciamo con il legno Muoviamo Sì, prendiamo un sacco di legno Se trovate qualche animale Cioè, ci creiamo un bunker tipo O andiamo Allora, secondo me Sei più tattico La prima cosa, prendiamo un sacco di legno perché poi staremo molto in miniera Quindi ce ne serve proprio tanto E cercate di droppare più mele possibile Perché è l'unica fonte di vita No, no, ce l'ho io il cibo, ho già 15 porchop Quindi le pozioni, da quanto ho capito Ma guarda che Non si possono fare E solo alcune non si possono Ma comunque il cibo rigenera solamente la fame Per la salute dobbiamo usare le mele d'oro O la pozione di salute istantanea Che è un casino Esatto Quindi prendiamo un sacco di legno Facciamo droppare le mele E se trovate animali, chillate Vabbè, se vuoi comunque io la porchop ce l'ho Cioè, ne ho un 15 Che dovrebbero bastare per tutta l'avventura Pezzo, fatti un... Come si chiama? Vabbè, ci penso io Se venite lì dove siamo spawnati Sto facendo una bella workbench Così ci facciamo i cosi per andare a scavare Poi ce la portiamo dietro, eh Non cerchiamo nulla Ecco, toh Che strana la granite, mai? Sì, è bruttissimo Eh? È vero Allora, quindi Noi non sappiamo dove siamo, giusto? Però la mappa, quanto è grande, circa? La mappa è 1800 per 1800 Siamo a quattro team Quindi saremo nei quattro angoli Ragazzi, sono dei buchi pazzeschi dove siamo spawnati Dobbiamo stare attentissimi Eh, esatto Sì Ma no, ma tipo Guarda, ci sono... Sembrano dei buchi Che in realtà Sono delle caverne sotterranee Io appena lo sto cadendo Eh, ci sto Poi ci andiamo E lì c'è tipo un casino di roba, eh Bisogna stare attenti, però Io mi sto scavando la mia... La mia galleria qua in basso Poi mi sa che taglierò dei punti noiosi Perché... Sì, sì Vabbè, certo Tutto così Basta prendere quattro pezzi di... Tre pezzi di cobblestone alla fine Dopo si va Ok, io ho già il piccone Quindi se volete vi... Anche io ho già il piccone Vi posso fare qualcosa Soprattutto l'avevo fatto, Ere? Lì da te Ecco Sì Sente la lava Siete già scesi voi? Eh, io sono già... Aspetta, altezza... Mighi, io non mi ricordo Adesso stavo saltando Oh, una mira Perfetto Non la vedo l'altezza Mannaggia Boh, anche c'è il mio picconcino Oh, bisogna stare attenti Bisogna stare attenti Sta modalità qua Perché è un po' cazzuta Intanto ragazzi Se clicchiamo tab Possiamo vedere anche le vite di tutti Esatto È vero Quindi colori è utilissimo Speriamo che qualcuno crepi malamente Ti tipo faccia qualche cazzata È caduta dall'alto Quindi vabbè, è possibile comunque È brutto morire Ma non c'è del pietrisco qua esposto Non c'è niente, infatti Cioè, che luogo di merda C'è la clay Ehi, che schifo Ma anche io mi sto domandando Ma non ho ancora trovato neanche un blocco di carbone Perché se scaviamo qua sotto Va che troviamo il peggio schifo Eh, ma qua c'è la caverna, cazzarola Aspetta Pezzo si trovi dei pezzi di Quando possiamo scavare Pezzo si trovi dei pezzi Se trovi dei pezzi di ferro Vieni su, ci prendiamo un bacche di acqua Andiamo, scendiamo giù Ma non ho neanche il coal, capisci? Che cazzo stai facendo allora? Va che muo Allora, io cerco della pietra Perché se no non si può fare un cazzo Ecco Anch'io qua ti aiuto Quindi Aaron, tu hai già trovato una mela? Sì, una sola Però ce ne servirebbero un bel po' Se vogliamo sprovvivere Un paio Allora, non trovo niente Sono arrivato quasi alla bedrock Ma che cazzo stai facendo? Perché se l'hai già lì giù? Cioè, dopo 5 minuti Lui già Folle Sono all'altezza 23 Tutti i nostri avversari sembrano ottimi E tutti, cioè ottimi Sembrano non stupidi, ecco Tutti, con tutti i cuoi Quindi mi hai appena detto che io sono stupido? Sì, un po', vabbè Si sapeva Grazie Ok, io vi faccio subito strumenti di pietra Non so se notate Ma tutti hanno già fatto time to strike Eh, ma adesso ci penso io Adesso ci penso Aaron Guarda, pezzo l'Aren in squadra Poi che ti fa tutte le skills Guarda qua Tac Sto già facendo tutto No, non so se è uscito Però ho la spada Ti ha rotto il piccone, mannaggia Ah, ma voi siete su, eh Eh, sì Ho sto buco qua? No, aspetta, aspetta Ma occhio, coprite tutti i buchi Ecco Mi faccio il set Era il mio buco quello, it Eh, vabbè In che senso? Cosa vuoi dire? Ecco, pezzo, spiegaci un'altra Ok Cibo, cibo Anche i funghi sono buoni per mangiare, eh Volendo Ma sì, tanto adesso ho fatto la fornace, se volete Quindi Ma i funghi bastava fare Ma serviva soltanto uno di fungo Per esempio la bacinella Eh, ne servono due più la ciotola Fai la zuppa Che ti rigenera quattro di funghi Eh, ma i due tipi di funghi Sì Vabbè, ma qua ci sono tutti Per quello Allora, ho il topic Oh, dei maiali Ho metto qua la fornace Chi gli serve può utilizzare Vabbè, prendili Eh, infatti io ho tipo Pochissime Io ho i maiali Pochissime cosciotte Ah, ecco, se trovate una mucca Fatela fuori Perché nel caso ci possiamo fare l'enchant in table Ci serve il libro Per cui ci serve la pelle Ah, già Eh, domandone Avete detto che c'è una caverna qua nei paraggi Sì, c'è un canyon Sì, c'è un canyon Allora, andiamo a scavare Te, beh, il ferro l'ho beccato Io intanto recupero la carta La carta nel caso Perché quando siamo giù Meglio non risalire Quindi ci conviene Sì Prendere tutto suo adesso Anche le miele Ho già perso mezzo cuoricino Cazzolina Guardalo Però c'è un tech for play Guardatelo là Due cuori ha perso Vediamo Attenzione No, no, raga, raga C'è il creeper Dai, pezzo Non voglio che muori su Sono già morto Pezzo Guardalo A meno quattro Sei morto Quasi A meno quattro cose Ok, ok Non disperate Fate un piccone Trovatevi in loro Ragazzi, comunque sono dentro Ragazzi, c'è Ho già dieci di iron Non è un problema Eh, l'iron adesso Dopo ti prendi E ti fai la bacinella di fuoco Sì, la bacinella Il secchio di acqua E' già l'acqua Mi sono buttato giù Con l'acqua, infatti Ah, buono Allora, io Cazzo stavo dicendo Io sto prendendo le mele Le mele qua Sono incipato Infatti ce ne servono Un creeper Mentre ero su Quindi Eh, ti conviene risalire Se riesci Non dividiamoci all'inizio Se no La mia voce Era crashata Buono, qua mele Non te ne vedono Eh, non droppano nulla Sti alberi Mamma mia Io ne sto distruggendo un po' Dai, droppate Sti mele Io non posso giocare All'acqua c Sono pericoloso Io scriverei qualcosa In chat contro pezzo Però Così gli altri si distraggono E muoiono Pensate che ho Ho già 30 C'è anche uno slime Che mi vuole uccidere Non ci voglio credere Uccidilo se riesci Così abbiamo La roba per fare i pistoni E le trappole Eccetera Ci sta Ok L'ho ucciso Le peggio cose Sì, sì Poi Vedrete Va bene, ho anche le slime Tanta roba Cioè sto andando io all'attacco ragazzi Ma secondo me morirai Sì ma anche secondo me Ma anche di brutto Perché guarda Un creeper ti ha già tolto 4 cuori Fai conto un altro creeper 4 Poi te ne rimangono 2 Ma guarda che io sarei morto Se non ci fosse stata l'acqua Perché sono caduto giù nel canyon Quando un creeper è esploso E improvvisamente Sono atterrato sull'acqua Beh dai È stata tutta fortuna Ah però intanto Ho già preso 30 di ferro Quindi se avete Dopo l'armatura di ferro Lo dovete Io ti consiglio Di risalire adesso Perché ci Ci servi Per prendere le mele Sì ma fra l'altro Non droppano nessuna mela Sti aldi Infatti Ma c'è abbiamo una no? Ne ho una io però È una Eh quindi pezzo La tua La tua La tua azione Già Già C'è costata caro Eh esatto Perché? L'unica mela che abbiamo Sarà adatta a te L'unica mela Era d'oro? Eh sì D'oro non l'è ancora Purtroppo Vabbè Adesso sono io Adesso in spedizione Per l'oro Vai Bravo bravo pezzo Caccia l'oro Il nostro nanoscavatore Vabbè adesso Mi faccio anche il piccone di iron Quindi salgo No no Ma raga noi siamo qui Facendo un po' Siamo un po' cazzeggiando No 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 Immaginate se arriva qualcuno Della squadra nemica dietro Eh sarebbe un casino No raga il mouse Il mouse si è rotto Sto morendo Si è rotto Nasconditi da qualche parte Nella pietra Se hai il problema Perdo sempre più cuore Perché ho il mouse che si rompe Non ci voglio credere Il mouse che si rompe Vieni qua Eren sei tu? Dove sei? No porca me No non sono io Non so dove Dai pezzo Non so dove siete C'è Raptor che ha perso Due cuori e mezzo Quindi sarebbero due colpi Di zombie più o meno Buono buono Boh ma secondo me Io e Eren faremo belle cose Pezzo non lo so Allora Pezzo muore Tra cinque minuti Esatto Mi sa che finisce davvero così Dov'è che si Voi scherzate ma Boh Se hai voglia Eren ci becchiamo Dallo spawn più o meno Sono uscito Sì io sono uscito Vivo Vivo Su Katte Però ho pochissimi cuori Quindi Eh Un casino Allora qua mettiamo a cuocere Un po' di roba Mele Niente Mi sa che Questa roba qua Della WACC Ha Ha fatto diminuire Anche lo spawn di me Mi auguro di no Secondo me sono anche Sti alberi di me Cazzo no Sto perdendo Cuori per il cibo Dio che pirma No Dio ho perso Un cuore per il cibo Eh io sapevo di essere Stubido ma sono messo Malissimo Cercate sempre di tenere Almeno a metà La barra della vita Eh infatti Cazzo Poi non capivo Che cosa Ho messo delle bistecche Nella fornace Nel caso Ma me le becco Se volete limitare La perdita di fame Non correte Sì ma tanto Sto mettendo dentro Il coal Quindi qua c'è tutto Per un bel po' Comunque siamo messi Di merda Perché lì c'è il deserto Proprio Un postaccio Boom Io vedo di far qualcosa Qua Arriva la notte Dici Sì Eh ci servo Sì sta arrivando la notte Quindi io direi Che io mi occupo Del Di trovare mele Cioè almeno Buttiamo giù qualche albero Vediamo Guarda ne ho fatti fuori Un sacco di alberi Però non droppano niente Zero Cioè una Me l'ha andata Se arriva la notte Dobbiamo andare tutti insieme In caverna Sì ci conviene Scendere Eh sì Ne cerchiamo qualcosa Chi è che ha il problema Gli alberi non ci mancano Gli alberi non ci mancano Bene bene Sennò provi meglio raga Così ne approfittiamo La slealta Proviamo a prendere anche questo Mouse to posto pezzo No no Il mouse si è bloccato Ho perso un cuore Per colpa del mouse Che non mi faceva attaccare Buono Eh Va bene raga Io direi di andare comunque sotto adesso Sì Allora Prendi tutta questa bella roba La crafting Anche ho distrutto questo Eren Eren vieni qua Vieni qui andiamo Sì sì Aspetta vediamo questo albero qua Che si sta distruggendo Eh Non cadono arbuscelle Basta Allora Io ne ripianto un po' intanto Così poi ce li abbiamo qui Tanto se li rompete la mattina Quando usciamo ci sono fuori le mele Eh dipende Se usciamo troppo tardi Despawnano Eh ma non credo Ti hai messi a 4 di distanza Se questi due non crescono Eh sto facendo a caso Tanto per occhio che arrivano così Mostri Guardatemi a me Se ne ho dietro Ecco il mouse Devi guardare tutti Barboscelle Niente 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 Ritiriamoci Io non perdo la speranza In questi due blocchi Niente Allora io recupero qua tutto Prendi la crafting Andiamo giù Sì sì Carbone Tutto Vai Andiamo Hit Ci siamo Scendiamo Giù Qua l'ho scavato uno io Piano piano tutti Non picchiate Spacca 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 uno Siamo Chiudiamoci dentro Vai chiudo Chiudiamoci dentro Torce Ce l'ho io Ce l'ho io Aspetta Allora torce Ne posso craftare anch'io Le ho fatte otto Le ho già fatte otto Eran Non parla Ah merda Ecco qua Ma posso Ok Allora adesso Qua trappo No Andiamo giù Troppo presto Troppo presto Abbiamo un pezzo messo male Poi un altro messo male Raptor anche lui Un pochino messo male L'esperto L'esperto Dell'UHC Tra l'altro Madonna Guardalo lì Bene bene Qua scavo Al piano tutti Non arrivate Ah qui ci facciamo Una mini base Veloce Qua c'è del carbone Quindi ottimo Ma Eren avevi detto qualcosa Per quanto riguarda Lo scavare Non mi ricordo Eh non bisogna scavare dritti Quando siamo a livello 12 Perché? Eh boh E contro le regole Non so perché Ah Allora qua Abbiamo una fornace Ci metto il carbone Se volete fare Che livello siamo? Boh io vedo qualcuno La sopra Cos'è che è? Non la torcia Lo spavento Siamo a livello 17 Per cui Qua si può anche scavare Vai proprio attaccato Perché può essere Che ti ripicconate Vai attaccato Al muro Sapete cosa? Ci conveniva entrare nel canyon Mi sa che era da questa parte Anch'io Ma tanto è tutto a destra il canyon Quindi basta No Non rubarmi il ferro Che dobbiamo fare Io scavo verso il cionale Io non c'ho niente Ok ho trovato qualcosa Di già Dai canyon Vai nel canyon A destra c'è il canyon Quindi potremmo tentare Sì sì L'ho trovato L'ho trovato Però che brutto Dire pezzo Mi passi un pezzo Mi fa V Dai Lasciami questo pezzo Di aero Lascia Allora qua c'è il carbone E basta Tanti io controllo Sempre la situazione Lì vediamo se c'è qualcun altro Che sta morendo No Soltanto Nel nostro caro pezzo La telecronaca Eh sì Pezzo pezzo messo male Come al solito Nelle UHC E qui abbiamo Beccato una fonte d'acqua E ragazzi Ah Eren è qua Sì sono qua C'è dell'apis Per gli enchantment Nel caso Puoi venire dentro Vieni Prendi Sì Se riesci Poi secondo me Qua c'è qualche diamond Argin all'acqua Esatto Così Raga carbone Avete qualcosa? Qua guarda È qua da scavare C'è del ferro Da darmi Mi faccio un piccolo Cercate di stare un pochino lontani Vai prendilo te So che vi spacco tutti Hai provato a destra Adesso non c'è niente Dobbiamo andare a sinistra Adesso andiamo a sinistra Facciamoci un po' di torce O se no Proviamo anche da altre parti A che livello siamo Raga 12? Siamo al 17 qua Dove ci sono le fornacce Quindi ancora si può fare Poi sto prendendo Più carbonozzo possibile Tanto il legno ce l'abbiamo Ce l'abbiamo tantissimo Quindi risorse Non si è ammessi proprio male Si è ammessi davvero male In quanto riguarda Allora Minchè il cibo Ah ero Con le robe lì Allora io vi faccio Una cesta Intanto Boh basta carbone Sosto fatto Ok No Dov'è che è andata Bam bam Eccoci qua La mettiamo La mettiamo qua Cosa diciamo Di andare più Perché è l'oro Abbiamo bisogno dell'oro Si abbiamo bisogno dell'oro Allora qua vi lascio Un po' di cibo Io cerco di fare qualcosa Io metto anche dei blocchi dentro Qualche skill Vediamo Lascio la mela Non mangiatela assolutamente Aspetta che metto a cuocere anche Le pop Prendo due di cibo Io ho paura ragazzi Non so perché Non so perché Non c'è più cuore Manca qualcosa È pieno di acqua Lo spark deve uccidere Uccidere la fonte Ok l'ho bloccata Lì cosa c'è Boh ma io non sto trovando niente Lì iron Iron siamo messi bene No Con l'iron No È solo io Insomma Io adesso ho un piccone E una spada di ferro Però ci dobbiamo armare Puoi dire di prendere il lapis Non so Il lapis prendilo sì Nel caso vogliamo incantare Però non abbiamo la pelle Quindi dovremmo risalire E solo che in questi biomi Non la troviamo neanche Mi sa Il problema è quello Andiamo dritti Andiamo Sì Allora la regola dice Che non possiamo scavare A livello 11 Ma se noi scaviamo A livello 12 Esatto Tra l'altro È quello ideale Il livello 12 Quindi Boh ho trovato un po' No Oro niente Niente Magari scava con il piccone di pietra Finché Non ci sono minerali Eh io sto cercando Più che altro Di seguire questa via Qua del canyon Eh occhio prima che Spawna roba Come al solito Eh sì sì Cerco Ho visto oro Cioè io mi allargo un po' Di qua Anche Oro 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 Psyco Ha perso Mi sa che Dade Ha perso Per le vite Dade Bene Raga Boom Oro Oro ci servono 8 lingotti Per la mela Ma mi sa Canto al timo Ah Moplet Io ho trovato Della redstone Ci può servire? Eh sì Volendo sì Allora dove spawnano? Se dobbiamo fare trappole Dal nulla? E se c'è una zona di buio Spawnano Dobbiamo stare attenti Eh io non ci sono Diamante 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 Il mio solito proverbiale culo Ok sì Lo scavi vai Sì se lo scavo Stando attento di non farlo cadere Vai vai Adesso voglio vedere cosa dicono Appena esce Diamante Non è uscito scritto No non esce Come no? L'acchievamento Ovviamente dovrebbe esserci scritto Cinque Due creeper Sei Occhio eh Sei di diamante Nasconditi nella base Nel caso Non rischiare Ma i creeper Boh è basta un bug Vediamo di non cadere C'è un carbone Vado la Io sono a un punto Vado la Un punto epico Guardate qua cosa sto facendo No dovete vedermi raga Ho costruito un ponte sopra i creeper Per vendere C'è proprio una struttura Come lo usiamo il diamante? Facciamo un piccone per l'ossidiano? O lo risparmiamo? Io vorrei fare un piccone per l'ossidiano Magari li tieni Vieni ci fai Io ho quattro pezzi d'oro Quanti ne hai? Quanti ne hai? Quattro? Oh oro anche qui eh Due Potremmo fare la spada eh Quattro Spada ciascuno Che cosa? Sei Di oro sto trovando Di diamond Ah sì Io dico di diamond Potremmo fare la spada Io ho otto d'oro Buono ci facciamo una mela e fatta Ok una mela e Non se la mangia pezzo Sì beh effettivamente è meglio aspettare per ora Sì devi aspettare Perché ho avuto bruttissime Allora intanto io lo metto a cuocere Buongiorno Ho paura per questi creeper Raga no scusa di Conviene che uno resti sempre nella base In modo che se arrivano altri player Non ci rubano la cazza A livello 11 non si può scavar dritto giusto? Esatto Allora devo salire di uno Scaviamo al 12 Tanto io scavo sempre al 12 di solito Raga c'è un creeper sopra di Io non so cosa fare raga Sono qui bloccato Bloccato Ops avevo sbagliato Beh io ho trovato dell'iron di nuovo Perché di andare lì sotto Con questi creeper Non mi sembra il caso Quindi Metto sta roba qua Intanto la situazione è che Pezzo è sempre messo peggio Fantastico Fine primo episodio Fine primo episodio Ok ragazzi Allora vi salutiamo Questo è il primo episodio Della UHC Noi ci vediamo in un prossimo video Da Pezzo e Renit È tutto Ciao Ciao a tutti Ciao belli Ciao a tutti